Buongiorno, bentrovati! Questo è uno spazio abituale di terzo binario che è stato un po' preso a prestito e usurpato nel stesso polo del termine da Lì sei vero, perché oggi parte ufficialmente Lì sei vero. Allora, se non Stefano Buttinoni, Stefano noi avevamo già fatto un incontro, ne avevamo già parlato, io però in questo momento anche spinto da Claudio, te lo voglio chiedere, noi naturalmente giochiamo in qualche modo in un altro campionato, ma riconosciamo, riconosco personalmente la fortissima funzione sociale dell'oratorio, propriamente detto, e mi viene voglia di chiederti che cosa può fare oggi l'oratorio per i ragazzi, soprattutto per i giovani, per il welfare di comunità. Innanzitutto ti ringrazio della domanda e ringrazio anche Claudio di aver detto delle cose che magari altri per tanti motivi non possono dire così esplicitamente, ma io credo che gli oratori possono fare tanto se si sa che cosa chiedere loro, perché sappiamo benissimo che in tante situazioni all'oratorio si chiede, magari da parte, non so, della pubblica amministrazione così, di risolvere delle questioni scottanti, prendimi quel bambino, portamelo in gita, fagli fare l'oratore estivo, portamelo in vacanza, eccetera, che è sempre quel tirare da una parte e dall'altra e non è un lavoro di rete, non ha nessuna dignità. Dall'altra parte che cosa può esserci invece? Un oratorio che si sente autocentrico, perché magari per tanto tempo, magari per secoli è stato l'unico centro di aggregazione giovanile del territorio e quindi si sente un po' autonomo, non si sente il boss della situazione. Ecco, invece io credo che in questo momento, forse anche sulla spinta di questa situazione così difficile, l'oratorio ha ritrovato anche di più se stesso all'interno di un territorio, proprio dentro nel lavoro di rete, dentro nella collaborazione. Ma io vorrei anche dire di più di questo, cioè io credo che se sono nate anche tante realtà sui nostri territori di filantropia, la chiamiamo così, cioè chi si occupa, chi vuole farsi carico della solitudine degli anziani piuttosto che dei disabili, piuttosto che dei minori, delle situazioni di marginalità, le donne di strada, eccetera, eccetera. Beh, questa cosa che si è espansa e che ha trovato anche delle voci totalmente laiche, cioè non confessionali, io credo che ci debba rendere estremamente contenti e fiduciosi. Cioè non è che se non lo facciamo noi che siamo la Chiesa, allora gli altri non lo fanno bene. Ecco, però dall'altra parte ci vuole anche il riconoscimento del fatto che dentro nel messaggio evangelico c'è un quid al quale la filantropia da sola non riesce ad arrivare, che è al totale sacrificio di sé. Ora, quest'estate, e Claudio lo può testimoniare come tanti altri che hanno acceduto ai servizi dati dalla rete, chi ha salvato la questione? La buona volontà delle persone. Né gli stipendi, né le professionalità e tantomeno le competenze, perché le competenze tante sono saltate. Un educatore dice, ma io come faccio a fare l'educatore in queste condizioni? Io mi dimetto, no? Oppure anche, non so, il giovane che so, anche scout, si è trovato a non avere più gli strumenti, non posso fare la vita all'aria aperta, non posso montare le tende, non posso fare i giochi dove ci si tocca, non sono più capaci di fare niente. Ma che cosa ha salvato la situazione? La buona volontà, cioè quella che sta alla base del lavoro di rete, cioè le relazioni, cioè del fatto che io e te siamo sulla stessa barca e sulla stessa barca o andiamo a fondo o ci salviamo tutti. Questa cosa qua, che poi il Papa continua a dire, che non ci si salva da soli. Ecco, io credo che se dentro ci siamo accorti di questo, ci siamo anche accorti di come, passatemi il termine, un po' dall'alto, dai media, ma anche da certi organismi che avrebbero dovuto pensarci di più e meglio, sono approdate al nostro immaginario una serie di immagini sbagliate che ci hanno fatto del gran male. L'immagine di dire che questa è una pandemia e chi sa che cos'è una pandemia? Cioè è un'immagine vuota, la gente non capisce che cos'è, no? Ma noi succedevano, ma tanto succedeva in Africa con l'ebola, no? Oppure, sì ma tanto è lontano, qui non ci tocca, no? Oppure le immagini dello tsunami, quante volte hanno tirato in ballo questa questione dello tsunami? Ma lo tsunami ti fa 20.000 morti in 10 minuti, poi va via. Oppure l'immagine guerresca, no? Siamo sotto attacco, dobbiamo combattere il virus. Adesso usano persino il termine coprifuoco, ma sono tutte immagini sbagliate e quando tu dai un'immagine sbagliata anche le persone ne ricevono la possibilità di una reazione sbagliata. Ecco la guerriglia di strada, siamo gli uni contro gli altri. Adesso si dice perché chiudono i teatri non chiudono le chiese? Ma la questione non è chi deve chiudere che cosa e se siamo insieme in tutta questa questione. Ecco che, ad esempio, l'immagine che io preferisco è l'immagine del monsone, che non è stata minimamente considerata. I monsoni vengono, ti cambiano il modo di vivere perché è un periodo di piogge intensa e non puoi vivere come vivevi prima, vanno via ma poi sai che tornano. Ecco questo tempo in cui si sapeva che sarebbe tornato, invece abbiamo vissuto con l'andrà tutto bene. Ma l'andrà tutto bene se non ci siamo noi che ci mettiamo in ballo, non va bene un bel niente. Ecco, io credo che davvero anche la chiesa, gli oratori, il territorio, ci siamo resi conto della necessità di un modo di procedere che è davvero altro rispetto a quello che ci siamo anche spesso raccontati gli uni gli altri. Io penso anche che la chiesa stessa, con le sue strutture, sia quelle più note che quelle più capite, pillari sul territorio, ha ritrovato anche una sua identità all'interno della società. Ha capito che c'è bisogno di uno sforzo di pensiero, che c'è bisogno di uno sforzo di dialogo e di reciproca accoglienza e di valorizzazione. Prima si parlava delle competenze, ma la più grande competenza a cui tutti quanti siamo chiamati è proprio la relazione. Io tutte le volte che costruisco una frontiera, per cui dico questo qui è il mio cortile del mio oratorio, io mi sono chiuso dentro. Ho tenuto gli altri fuori, ma in realtà sono io che mi sono chiuso dentro. E allo stesso modo può essere, che ne so, il servizio sociale, la tal associazione o la squadretta di calcio. Ma com'è più bello invece lavorare in questo? Quindi, no, questo che diceva, ma ne usciremo migliori? No. Non è automatico. Dipende se vogliamo uscirne migliori e certamente per uscirne migliori bisogna fare un cammino, bisogna fare dei passaggi e non è sempre facile. Ecco, se poi quando, sul tema della disabilità, i passaggi che dobbiamo fare sono giganteschi. Io nel mio libro parlo di dieci passi per arrivarci. Non ci arrivi con uno, no? Che ci stringiamo, faccio un pomeriggio con te, è finita. No? Ci vogliono dieci passi. E allo stesso modo, in un momento in cui bisogna prendersi cura gli uni degli altri. Per cui non è che il giovane ha più diritto di andare a scuola che l'anziano di andare al mercato. O il bambino di andare in bici. Questo tema del tanto lo fa il terzo settore, che in qualche modo anche Claudio ha tirato fuori. All'oratorio, in Caritas, lo vivete questo atteggiamento? È un po' il solito tema magistrale del volontariato, no? In Italia ci sono 3 milioni e mezzo di volontari che sono una risorsa straordinaria. Non esistono in nessun'altra parte del mondo un numero così alto di volontari ed è il lato positivo della questione. Il lato negativo è che se non ci fossero questi 3 milioni e mezzo di volontari, io non so dove andremo a finire. Ecco, però appunto Greg, io dico, ma il concetto stesso di società deve fondarsi su una struttura statalista oppure può fondarsi su una struttura più di persone che stanno in relazione? Questa è una domandona gigante, perché dopo anche quando, non so, la singola associazione chiede dei fondi per andare avanti e supplica, no? Queste cose qua sono dolorose da chiedere, da accettare, da sentire, da dire, no? Perché dobbiamo fare la vendita delle torte per tenere aperta la squadretta di calcio del, no? Ma qui o ci rendiamo conto che la struttura stessa della società sta in piedi su dei valori che non possono essere soldi a pioggia oppure siamo al palo. Poi è ovvio che poi un bel momento quando capisci che o ti arrivano i fondi o chiudi, un bel momento picchi le porte, bussi e ricatti anche e dici, beh, allora o mi mandi altri tre educatori e me li paghi tu oppure io chiudo, no? Però questi momenti sono momenti drammatici. Ecco, io credo, perché diventa un gioco, no? Di forze, dove dopo uno dice, eh ma perché allora li diamo di lì e non li diamo di là? Eh ma allora diventa la rivendicazione, no? Come mi è capitato, lo racconto sempre perché ho riso un sacco, un giorno sono arrivato al parcheggio dell'ospedale di Vimercate e c'erano due macchine con il contrassegno disabili che si contendevano l'unico spazio disabili libero e la discussione era chi fosse più disabile dei due. È chiaro che se tu metti le cose in questo modo un bel momento diventa la lotta tra i galli, no? Cioè dei caponi di Renzo, ecco, cioè è proprio importante invece che impariamo che non c'è un altro modo di lavorare se non questo e tutti gli altri sono una riduzione anche al mercato, no? Per cui io mercanteggio un servizio e chi me lo offre al minimo prezzo, per cui va bene l'oratorio, ho quei tre bambini lì che non so dove sbatterli, mando là perché costa poco. Però capite qual è il valore sociale di questa cosa qua? È su questo che dobbiamo davvero, come diceva Claudio, costruire delle idee di una polis diversa, di una politica diversa, non so se si capisce. Si capisce, si capisce Stefano, grazie, grazie per il tuo intervento, poi lo riprendiamo. Don Stefano, invece la stessa domanda che ho fatto a Marta sulle azioni che Caritas, per quanto di tua competenza, metterà in azione e in movimento nell'immediatezza di questa nuova emergenza? Sicuramente la linea è cambiata rispetto all'inizio. Io sento che la prima emergenza che abbiamo vissuto ci ha messo di fronte alla necessità di un cambiamento. Ovviamente chi come noi era già dentro in un lavoro di rete dice, beh ma questa è la strada. Quindi io penso che da oggi in poi nessun oratorio, per dire gli oratori, penserà più di far da sé. Nessun gruppo scout penserà più di far da sé, ecco, se parliamo del mondo più propriamente cattolico. Certamente, anche un po' per intervenire su quello che diceva Claudio adesso, sono proprio importanti luoghi di pensiero, non solo di azione, anche prima Giovanni diceva, no, ci vuole uno stare, non basta un intervenire, no? Luoghi di pensiero dove si dice con chiarezza come una società può salvarsi, cioè può autosalvarsi, ok? Questo io credo che sia il principio base. Io in questi anni, nei quali appunto anche come esperienza personale sono passato dalla conduzione dopo 18 anni di oratorio alla Caritas e dentro in questa rete, caspita, ma io ho respirato davvero un'aria di cui sentivo la necessità. e mi sono accorto che da parte di chi, tra virgolette, stava fuori rispetto agli ambienti che vivevo io, c'era una domanda, ovviamente di chi questa domanda vuole ascoltarla e di chi vuole porsela, perché poi c'è anche quello che gode del fatto che i capponi di Renzo si scannino tra di loro, perché ha gli affari suoi da fare. Ecco, eccitazione. Che eccitazione colta, per me. Cioè, voglio dire, c'è anche qualcuno che continua a imperversare con queste tecniche da guerriglia urbana, ma nel pensiero. Dopo, quando le vede per le strade, allora grida allo scandalo, ma l'hai creato tu questo stato di cose. Ecco, cioè, davvero, io penso che Caritas da sempre tenta di costruire una città dell'uomo. Certo, si ispira alla città di Dio, ma non racconta la città di Dio. Mostra come nella città dell'uomo stanno meglio tutti quanti. Cioè, in una città che è umana e che parte appunto di loro, il principio fondante sono le relazioni e non i giochi di competenze o i giochi di potere, quanto mai. Ecco, quindi, poi gli osservatori Caritas sono degli osservatori privilegiati, per fortuna sono stati riconosciuti anche dal governo. Cioè, voglio dire, chi accede ai servizi che Caritas pone sul territorio, che fossero anche soltanto dei centri di ascolto, cioè dove non si danno soldi, non si danno viveri, non si danno niente, però si ascoltano le persone. Sono dei ricettacoli di gente che non viene a fare manifestazioni con le spranghe, ma dove versa le sue lacrime c'è qualcuno che le raccoglie e le ascolta. È un osservatorio assolutamente privilegiato e al quale appunto si risponde quando si può, come si può, eccetera, eccetera, anche con i viveri vestiti, l'accoglienza e alcuni servizi, ma soprattutto con l'umanità. Ecco, io credo, no, anche davanti ad alcune, lasciatemi fare questo escursus un po' così, anche davanti ad alcune manifestazioni che abbiamo visto all'estero dove nel momento della pandemia si va a comprare le armi. No, noi abbiamo assaltato per la pasta asciutta e la farina, no? E dico, ma lì dentro vuol dire che c'è una cultura che è fondamentalmente malata nel suo interno. Ecco, noi non siamo a quei livelli là, per fortuna nostra, però non è che non abbiamo più niente da fare, anzi, abbiamo davvero... Noi produciamo comodini di solito invece che comprare le armi, è la nostra reazione di solito. Io penso, cioè voglio dire, siamo anche dentro in un territorio, poi Marta lo ricordava, dove davvero c'è una volontà precisa anche di modificare le relazioni. Abbiamo qui Codebri, cioè voglio dire, persone che comunque non stanno lì a buttare soldini, buttare via risorse pubbliche, ma vogliono davvero ripensare a una civitas diversa, a un modo diverso di concepire la città stessa. Ecco, se posso dire, io accanto a tutto questo non ho sentito in questi tempi un vero ripensamento ecologico, cioè è lontanissimo. Della Greta Tumberi, ma non interessa a nessuno il ripensamento ecologico, un ripensamento economico. Abbiamo un'economia che è malata dall'interno, il Papa continua a dircelo, dove si producono scarti, che non sono solo gli scarti dell'industria, ma ci sono scarti sociali, che poi pesano pesantemente sulle risorse pubbliche da investire, da recuperare. E quindi ci vuole davvero un'economia di pensiero, ci vuole, bisogna davvero mettere insieme tutte le risorse mentali che abbiamo e poi chi ce l'ha pure quelle spirituali. Noi ti volevo far chiudere, ma invece hai aperto dei mondi che non riusciremo naturalmente ad ascoltare. Le adesso, le prossime... Ciao, però è bello poterne parlare insieme. No, assolutamente, ma i miei sono tutti inviti a rincontrarci in questa tavola rotonda o in trasmissioni di Terzo Minario, quando vuoi, lo sai. No, assolutamente, ma i miei sono tutti.